Dimenticare la devastante scoppola subita a Fratta Maggiore e ricominciare a vincere. E l'obiettivo in casa gela. Domani, fischio di inizio previsto per le 14.30, i Biancazzurri e il Vincenzo Presti riceveranno la visita del Rende, nuova capolista del Girone. Testa difficile per la truppa allenata da Pietro Infantino. Prima o poi però bisogna incontrarle tutte. In settimana i Biancazzurri hanno lavorato soto e hanno stretto un patto di ferro, mai più figuracce come quelle di domenica in Campania. Arriva la capolista perché domani sarà una partita importante per noi e dobbiamo essere concentrati per portare a casa i tre punti che mancano da parecchio dentro casa. Facendo un attimo passo indietro, cosa è accaduto a Fratta Maggiore? È stata una partita che capita raramente. Non siamo scesi bene in campo, siamo stati un po' disattenti in alcune palle e quindi è capitato quello che è capitato. L'unica assenza certa domani sarà quella del centrocampista Bruno, squalificato. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Bulades. Bisognerà dare il 101% per battere i calabresi ed una mano d'aiuto deve arrivare dal pubblico. Invito tutti a venire allo stadio per darci un aiuto che ci servirà. Però soltanto un punto nelle ultime due partite. Sì, infatti ci dobbiamo rialzare il più presto e cercheremo domani di farlo perché siamo un bel gruppo, una bella squadra e abbiamo le qualità per fare bene in questo campionato. Abbiamo lavorato tranquillamente, con più concentrazione, non perché arriva il Rende che è la capolista, ma perché ci servono assolutamente punti anche per il nostro pubblico. Il centrocampista Schisciano ribadisce che quest'anno il Gela deve puntare in alto. Il Gela è una grande società, quindi dobbiamo fare bene anche per noi stessi perché siamo un bel gruppo e ce lo meritiamo dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto. E quindi dobbiamo fare un bel campionato, dobbiamo far divertire il nostro pubblico. Questo è l'obiettivo. Partendo da domani. Sì, esatto.